Alter Alt Festival 2024, un festival nel territorio, quello di Pergola in cui ConfCommercio crede da tanti anni. Pergola è una delle località nella provincia di Peso Urbino, nelle Marche, in cui noi siamo impegnati da molti anni per la promozione e lo sviluppo economico legato alla valorizzazione del bello, alla valorizzazione della bellezza. Tante eccellenze che oggi vedono anche in questo festival che si sviluppa in diversi mesi, cominciamo dal 3 febbraio fino ad arrivare a luglio, un festival multidisciplinare che metterà Pergola al centro dell'attenzione e anche della comunicazione non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, visto che questo festival, questa manifestazione che è stata finanziata dall'Unione Europea coinvolge diversi paesi e diverse regioni in Italia. È un festival multidisciplinare di arte performativa, danza, teatro e anche arti visive e quest'anno abbiamo focalizzato molto su quello che è il welfare ambientale. È un festival che nasce con l'idea di sostenere la rete di quelle organizzazioni che sul territorio, che è un territorio interno legato ad aree rurali ed aree montane della regione Marche, hanno un impatto molto importante per quello che riguarda la sostenibilità ambientale ma anche progetti di inclusione sociale. Crediamo fermamente che l'espressione artistica, il contenitore artistico di un festival possa sicuramente creare momenti di scambio, di dialogo ma anche di un punto di riferimento per quei giovani che sul territorio durante l'anno vivono. Circa tre anni fa con mio marito e nostra figlia ci siamo trasferiti nel comune di Cagli da Bolzano e mio marito dalla Turchia e siamo entusiasti e ci sentiamo a casa qua e valorizzare questo territorio è una cosa importantissima per noi. Tre anni fa abbiamo fondato la fattoria naturale Shizen, che è una fattoria dove si pratica l'agricoltura naturale. Questa agricoltura naturale è un metodo del non fare e ridona fertilità al suolo anziché distruggere la fertilità del suolo che con tante pratiche moderne purtroppo è in aumento. Ci sono cinque pilastri per questo tipo di agricoltura che sono non arare, non potare, non disservare, niente uso di pesticidi e di fertilizzanti chimici. Mediante questi metodi o questi non metodi noi pratichiamo l'agricoltura in sintonia con la natura.